a far sì che queste istituzioni dialoghino, laddove invece in altre realtà non si salutano nemmeno. La Regione vuole facilitare questo accordo. C'è la possibilità anche con altri fondi, eventualmente se si sbloccano i fondi FAS, di fare cose ulteriori? Sui fondi FAS c'è una partita importantissima e decisiva per quello che riguarda l'edilizia e crediamo che l'Università di Sassa e la stessa Accademia delle Belle Arti, se questi fondi verranno sbloccati, come sembra, avranno veramente un grandissimo ritorno.